Sono quasi a capotavola. Ah beh. Allora, io sono Pierluigi Serreino, e mia madre era Maria Giulia Miano, era la famosa cugina ritrovata siciliana. Io ho un rapporto doppio con Peppe, perché in parte è ovviamente famiglia, in parte perché io sono architetto, e lui è stata una figura centrale nella mia formazione universitaria, e anche formazione di vita. Mi occupo di vari aspetti dell'architettura, per me la storia è operativa, deve aiutare il progetto, ed è una posizione che lui non era completamente convinto, ma avere una frizione fra noi era parte del nostro rapporto, della nostra vitalità. Forse se dovessi sintetizzare in una frase la lezione che Peppe mi ha dato, è che l'architettura è un'arte colta, che l'architettura è un umanista, e quindi l'idea dello studio non è una cosa da cui uno va in pensione, cioè tu continui indefinitamente a crescere, a condensare, a sintetizzare. Io vivo da tanti anni all'estero, e quindi ho anche un po' capito aspetti della personalità di Peppe, che fondamentalmente è un eurocentrista, io vivo in California da tanti anni, e ci sono altri modi di guardare la storia, e curiosamente, con tutto che eravamo molto legati, Peppe in 21 anni che sto lì non mi ha mai chiamato a casa, ma mi mandava sempre queste cartoline piene di cose, vedi quanto sta lasciando in Europa, guarda tutte queste cose inglese, è la Turchia, è Parigi, poi a Parigi in particolare era una città che lui amava profondamente, ricordo allo studio di Roberto, aprire la cartina della Francia, vede Parigi e lui bacia Parigi come se ne desse la Madonna, quindi questo amore incondizionato per la cultura francese, e quindi ovviamente tu devi parlare il francese, perché se no sei in una condizione di grande inferiorità intellettuale. Un'altra cosa che mi ha colpito molto di Peppe è che lui non seguiva veramente le mode, cioè lui era una persona che era interessata alla cultura in una maniera globale, io ho coltivato una passione negli anni che suonare sono le chitarre classiche, ho fatto studi al conservatorio, e ricordo che stavo facendo l'esame di storia della musica, e io ho detto a Peppe, sai Peppe sto studiando, sai che sto studiando? E avevo il programma davanti a me, e lui me lo disse tutto, uno dopo l'altro, tutte le cose che avrei studiato, senza che io aprissi bocca, cioè lui conosceva tutta la tradizione, fino alla musica contemporanea, che mi scioccò moltissimo, perché in realtà quello era un modello di totalità intellettuale, che lui applicava a tutto ciò che era la sfera umanistica. Il mondo veniva suddiviso nella cultura umanistica e nella cultura scientifica, di cui lui non aveva alcun interesse, forse un suo limite, però anche la definizione del suo percorso intellettuale, della sua volontà di affrontare il sapere in maniera, in qualche modo controllabile. Ho scoperto tramite lui il valore della città, cioè che l'architettura non si ferma all'oggetto architettonico, ma che ha delle relazioni col territorio che sono fortemente connotate da esperienze della politica, esperienze sociali, anche come storico. Lui mi ha insegnato a vedere l'architettura come spazio vissuto. Ricordo, ne ho parlato un po' al funerale, dove lui, eravamo in un viaggio a Chicago, con la signora Grazia Toraldo, eravamo soltanto io e lui, e andammo in uno degli edifici di Wright, un grande cortile interno dove non c'era nessuno, lui prese due sedie e le mise in mezzo allo spazio e adesso diventiamo parte dello spazio. È un'esperienza fortissima, perché è come... Io col tempo sono stato interessato molto alla fotografia dell'architettura, l'esperienza dello spazio non può essere delegata, è come se lui avesse voluto assorbire il più spazio possibile in questi viaggi, lo spazio dell'architettura turca, allo spazio delle grandi metropolie europee, e una parte dell'America, la parte della costa est, e la parte fino a Chicago, e poi la Louisiana e tutto il resto. Io vivendo in California, non esisto culturalmente, ma questa era un po' una parte di vero. Io spero col tempo che questo messaggio di architettura come arte colta rimanga un po' a tutti quanti. Senz'altro a me, mi ha dato un carburante continuo per continuare a studiare, e spero che altri ne abbiano ulteriori suggestioni. Grazie.